Charlie ha vissuto la sua vita pienamente e ha sempre donato a tutti quello che aveva. A me ha dato l'herpes. Con dilomi vaginali. Con il mio perigione ha fatto il tè. Il punto è che Charlie ha vissuto la vita secondo i suoi parametri. Bla, bla, bla. Facci vedere il cadavere. Charlie Harper è stato l'amore della mia vita ed era un uomo davvero meraviglioso. Alla stazione è scivolato dalla banchina ed è finito sotto il treno in arrivo. Il suo corpo è esploso come un pallone pieno di carne. Lo so che cosa vorresti tu, ma... Non credo davvero che a Pamela Anderson andrebbe ad ingoiare le tue ceneri. Io quella roba non la pulisco. Pensa a me e te, insieme. Ti penso giorno e notte, amore. Restiamo insieme. Tu pensa solo a me, tesoro. Tienimi stretta. Felici insieme. Così per sempre. C'è la pappa. Ecco qua per te. Abbiamo toast di tonno con vodka. Insomma, adesso non guardarmi così. Hai bisogno di mangiare. Mi tieni il broncio, eh? Beh, se non vuoi mangiare, apro il tubo dell'acqua. Così va meglio. E usa il tovagliolo. Anche se stai in un pozzo non vorrei vivere come un animale. Ti ringrazio. E dopo aver mangiato, devi cambiarti gli abiti. Che c'era nella cassetta della posta? Vediamo bolletta dell'energia elettrica del telefono.